Negli anni 50 il 10% degli italiani soffriva di allergie, oggi siamo passati al 25-30% e secondo le stimi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il 50% della popolazione entro il 2020 sarà affetto da rinite. Le allergie sono malattie dei paesi industrializzati dove c'è un uso eccessivo di antibatteri per l'igiene e di antibiotici per combattere infezioni che si risolverebbero da sole, ma a cosa c'entra la troppa pulizia con l'aumento delle allergie? Ci sono meno malattie infettive e sono aumentate le malattie da disreattività del sistema immunitario quasi come se il sistema immunitario si sia dedicato a qualche cos'altro. Perché l'allergia è causata da un malfunzionamento del sistema immunitario? La rinite allergica non è una malattia del naso, l'asma non è una malattia dei bronchi, quindi l'ezema atopico non è una malattia dell'acute ma sono tutte manifestazioni d'organo dovute a un malfunzionamento del sistema immunitario. Inutile infatti curarla con farmaci che agiscono sull'organo, quindi sui sintomi, quando si sospendono torna tutto come prima. Le terapie corrette agiscono sul sistema immunitario, lo istruiscono a funzionare meglio. Ad esempio i vaccini che agiscono sul sistema immunitario si riesce a cambiare la storia naturale della malattia. Recentemente i medici hanno scoperto che funzionano altrettanto bene i probiotici. Sono sostanzialmente dei batteri che per contatto a livello del sistema immunitario presente a livello intestinale educano le cellule del sistema immunitario a funzionare in modo più corretto. Questa, la stagione dei pollini, è la peggiore ma chi è allergico lo è tutto l'anno anche quando i sintomi non sono così evidenti. Ecco perché una decina di anni fa, unica in Europa, è nata la rete allergologica della regione Piemonte che raccoglie tutta una serie di dati da quelli epidemiologici al consumo di farmaci alle spese per diagnosi e vaccini. Nell'ambito della rete regionale dell'ergologia esiste poi l'osservatorio per le gravi reazioni allergiche in cui vengono segnalati i pazienti a rischio di avere episodi gravi, anche fatali come può essere l'anafilassi, lo sciocanafilattico, un asma bronchiale grave. Le preziose informazioni sui soggetti allergici più a rischio sono visibili nei database del 118 i cui operatori sono così in grado di intervenire immediatamente in caso di emergenza. Grazie.